Allora, buongiorno a tutti. Ve l'ho già detto, sono molto emozionata perché vengo dopo dei talk che sono stati molto molto belli. Vi parlo di un argomento che mi sta molto a cuore, che in parte ha già introdotto Renata con il suo talk, riguarda il fallimento. A differenza di Renata, io vi parlo di una storia di fallimento vera, di quelle che hanno il bollino fine e non è stata una lieta fine. Quindi non una storia che avrebbe potuto essere fallimentare, ma proprio una brutta storia. Ma sono qui a raccontarvela ed è già, secondo me, una buona cosa. Perché vi parlo ancora di fallimento al freelance camp dove siamo qui tutti ad imparare cosa dobbiamo fare per non fallire? Perché se ne parla troppo poco, perché la parola fallimento sta scomparendo dal vocabolario collettivo. E questo è un male. È un male perché in questo periodo storico, quello che ci raccontano sono solo storie di successo. Ci raccontano di pensare positivo, di pensare in grande, se hai la vision, fai la visualizzazione, immaginati nella villa al mare, guadagnerai 3.000 euro al mese. Non è proprio così. E c'è un grande rischio in questa narrazione collettiva. Il rischio di spostare tutta l'attenzione su di noi, facendoci credere che con il nostro pensiero possiamo governare l'universo mondo, possiamo governare tutte le variabili che entrano in gioco in una vita reale. Ma fortunatamente non le possiamo governare. Perché già così facciamo abbastanza casino. Se poi riuscissimo a governarle tutte, non oso immaginare. E allora vorrei iniziare a cambiare un po' questa prospettiva e parlare di fallimento per allungare quella strada che unisce il concetto ho fallito un'attività dal concetto sono un fallimento come persona. Perché se ci raccontano che se noi pensiamo in grande, pensiamo positivo, possiamo ottenere qualunque cosa, quando non ci riusciamo ci diciamo sono un fallimento come persona. Non sono riuscita con il mio pensiero a governare tutto quello che avrei voluto governare. Ecco vorrei allungare questa strada. Anzi meglio ancora interromperla perché il fallimento di un progetto non è il fallimento di una persona. In America ci sono università come ad esempio Harvard dove c'è il top degli studenti con il top degli insegnanti a seguire il top dei corsi e parlano di fallimento. Ci sono corsi dove insegnano ad approcciare il fallimento. Questo la dice lunga sulla strada che dobbiamo ancora fare. Non che l'America sia il meglio del meglio ma generalmente arrivano una ventina d'anni prima di noi in alcuni campi, in alcuni settori e qui sono decisamente più avanti di noi. Mi piace riportare una frase di Foscolo che dice che non esistono errori ma solo opportunità per imparare le cose. Ecco oggi vi vorrei raccontare quello che io ho imparato dalla mia storia. La contestualizzo in due parole, non vi voglio trattenere molto anche perché poi ci sarà il pranzo. Qualche anno fa mio padre è 75enne, molla il timone della sua attività imprenditoriale fiorente ma decide di lasciarla a qualcun altro ma dopo poco tempo si annoia e decide di aprire un'altra attività produttiva e mi chiede di saltare a bordo. Non avevo nessun motivo per dire sì ma nemmeno nessun motivo per dire no e quindi accetto. Io non avevo nessuna fiducia in me stessa, non avevo nessun motivo appunto per dire sì ma neanche per dire no, ma avevo fiducia in lui. Lui sapeva quello che stava facendo, aveva la sua visione ed ero convinta che insomma il destino mi avrebbe dato almeno quei cinque, magari dieci anni per imparare tutto quello che doveva insegnarmi. Ecco il destino ha deciso diversamente e qui torniamo al concetto di variabili che non possiamo governare. Decide diversamente, dopo pochissimo tempo si ammala e tutto quello che doveva insegnarmi rimane in un corpo troppo debole per occuparsi di queste questioni. Quindi io rimango in questo capannone enorme, da sola faccio andare ai macchinari, cerco i fornitori che non mi filano di pezza perché sono troppo piccola per essere interessanti, cerco i clienti, faccio le pulizie, cambio gli stampi, insomma faccio la donnina a tutto fare. E ogni giorno, in ogni singola attività che faccio, mi ripeto non sei capace, non ce la farei mai, non andrai da nessuna parte. Ecco questo continuo raccontarmi che non sarei mai andata da nessuna parte non mi ha in realtà, come dire, fermata dal compiere le attività giornaliere, ma erano dei passi sul posto, anziché dei passi avanti, perché tanto sapevo che non sarei mai andata da nessuna parte e quindi continuavo a camminare dove stavo. Ecco, la prima cosa che ho imparato è di aver fiducia in se stessi, già il giorno zero, già quando si inizia l'attività, che non vuol dire avere la convinzione di essere bravi, vuol dire però avere la fiducia che ci sarà in un futuro, il dirsi che si sta facendo qualcosa per andare avanti e non per stare dove si sta. La seconda cosa che ho imparato è quella di fare le cose per se stessi. Come vi ho detto io non avevo un motivo per un sì, non avevo un motivo per un no. Ma è fondamentale invece avere la propria motivazione. Probabilmente quasi tutti conoscerete il famoso discorso di Simon Sinek, Find Your Why. Trova il tuo perché. Ecco, ma c'è una specifica sul perché da trovare. Di questo do merito già da carta, che per la prima volta mi ha fatto notare questa differenza. C'è una motivazione pratica, che è quella che ci spinge magari a lasciare il lavoro da dipendente per poter fare le ferie a novembre anziché ad agosto o per poter gestire meglio la famiglia. Ma questo non distingue me che faccio la coach da a una persona che fa l'architetto o la web designer. La motivazione ideologica è quella che ci distingue. Quella che fa dire a me di essere coach per aiutare le donne a sviluppare i propri talenti o l'architetto che vuole fare questa professione per portare bellezza e armonia in casa. Trovate il vostro perché e soprattutto fatelo per voi stessi. Non per la mamma, lo zio, il nonno, perché lo fanno tutti, perché così avrò successo. Fatelo perché credete in voi stessi e fatelo per voi stessi. Come vi ho detto, mio papà si è ammalato e mi sono ritrovata da sola in questo capannone enorme, ma non ero da sola solo fisicamente, ero da sola anche mentalmente, non avevo nessuno con cui confrontarmi. C'è un bellissimo concetto, leggo la parola perché altrimenti potrei pronunciarla male, Yuimaru, che in dialetto di Okinawa significa cerchia di riferimento ed è un concetto che trovo bellissimo. Loro la chiamano cerchia di riferimento, io la chiamo rete di salvataggio. Avere una rete di persone con cui confrontarsi. Io adesso fortunatamente ce l'ho, due persone sono qua ed è una rete a cui noi attingiamo per trovare conforto nei momenti un po' più bui, per condividere le gioie, per avere opinioni, anche banalmente per farci leggere una sales page e farci dire dove ci sono gli errori e dove potremmo migliorare. Avere una cerchia di riferimento, una rete di salvataggio, chiamatela come volete, è fondamentale. Se ancora non avete il vostro Yuimaru, questa è l'occasione propizia, l'occasione migliore per trovarla perché siamo un freelance camp e condividiamo tutti, anche se in campi diversi, in settori diversi, le stesse esperienze. E anzi vi dirò di più, non cercate la vostra cerchia di riferimento tra persone che svolgono la stessa identica attività perché il rischio di cadere in quella malattia che si chiama paragonite è fortissimo. Lei fattura questo, lei ha tot clienti, io ancora non ce li ho. Cercatela in settori diversi perché comunque le problematiche sono medesime, le problematiche sono simili, ma averla vi cambia veramente la vita. L'altra cosa che ho imparato dal mio fallimento è la fermentazione degli obiettivi. Io partivo da zero, non sapevo niente di niente, avevo come obiettivo quello di mettere sul mercato i miei tappi sintetici per il vino, di cui non sapevo veramente niente. Ce l'avevo là il mio obiettivo, zero mille, non so niente, vendo i miei tappi. Benissimo. Un obiettivo giganterrimo, là lontano. Così lontano che sembrava sempre più grande, così sempre più grande che mi faceva sempre più paura. Ecco, frammentare gli obiettivi serve a fare un passo alla volta, non una maratona, ma un passo alla volta. Chi ha seguito magari qualche percorso di coaching, soprattutto in alcune scuole di coaching, saprà che la prima cosa che succede quando si inizia un percorso, che si arriva dal proprio coach con un bello obiettivo, grande come una casa, la prima cosa che fa il coach è frammentare l'obiettivo in sotto obiettivi. E la prima cosa che un coach vi chiede in ogni sessione è qual è il passo che vuoi fare con me oggi? Non la maratona, mi ripeto, non il salto d'oscato, un passo, un passo dopo l'altro. E da un punto di vista psicologico fa una differenza abissale. Arrivare alla prima tappa, battervi una mano sulla spalla e dirvi brava, fin qui ce l'hai fatta, adesso pronta per la prossima tappa. Così fino alla fine fa la differenza tra l'arrivare in fondo e il perdersi per strada. L'ultima lezione l'ho imparata in realtà in un'esperienza successiva. Chiudo l'attività, mi cercano per diventare business developer in una scuola di lingue e mi propongono di creare dei campi estivi. Anche lì non ne sapevo molto, ma il progetto mi piaceva tantissimo. Sposavo l'idea di quel tipo di campo estivo, mi rappresentava. Quindi nonostante non avessi nessuna struttura, perché ero l'unica in Italia a rappresentare quell'azienda e non avessi praticamente nessun budget. Mi occupavo di tutto, dalla creazione dei volantini alla stampa, al volantinaggio, all'acquisto del materiale e via dicendo. Ero così convinta di quel progetto che è stato un successo, con dei numeri crescenti, così crescenti che la concorrenza mi nota sul mercato, mi propone di andare a lavorare per loro. Struttura enorme, avrei avuto chi mi aiutava a fare la qualunque, budget infinitamente più grande rispetto all'altra attività, quindi accetto tutte le carte per fare bene, ho le persone, ho i soldi, chi mi ammazza a me? Con un piccolo ma. Il mio capo, il mio ex capo, aveva l'idea di campo estivo come fosse un piccolo villaggio. Chi mi conosce sa che io non sono particolarmente amante dei villaggi, ve lo dico qua in un villaggio, ma insomma io sono così, io sono più per il boutique hotel. Ma siccome il capo ha sempre ragione, io cerco di creare un camp che sia un piccolo villaggio con la canzoncina iniziale, yuppie, ecco, ma creare qualcosa che non era nelle mie corde è stato veramente difficile e che ve lo dico a fa, non è andato così bene. Creare qualcosa che non mi rappresentava e vendere qualcosa che non mi rappresentava. Ecco, quando pensate ad un servizio, quando pensate ad un prodotto, oltre ad essere aderente ai vostri valori, penso ve l'abbiano ripetuto in tutte le salse, fate qualcosa che davvero vi rappresenta come persona, che parla di voi, che vi racconta, perché questo passa alle persone. È qualcosa che va al di là, è un percepito, che va al di là di quello che io posso dire, è qualcosa che si trasmette. Ecco, queste sono le cinque lezioni che io ho imparato dal mio fallimento, ma ce n'è una, la più importante, che mi ha lasciato mio papà. Pochi giorni prima di marire ho condiviso con lui la decisione di chiudere l'attività, perché evidentemente non ero in grado, e le parole che mi ha detto sono state in qualche modo salvifiche e probabilmente sono quelle che mi consentono di essere qua oggi a parlarvi di fallimento e a parlarvi della mia nuova attività. E quello che mi disse è l'importante non è cadere, ma rialzarsi sempre. Grazie.